Allora, come vengono scelti invece i cani e quindi dove li andate a trovare, vi vengono portati, come succede l'incontro? Allora, prima di tutto la prima visita che noi facciamo sono i canili che abbiamo vicino a casa. Ci sono delle cose fondamentali che noi richiediamo in un cane da soccorso, è una buona tempra, un buon temperamento, una buona docilità, curiosità, non cani aggressivi, sono delle caratteristiche che ci servono per forza di cose perché lui diventi un cane da soccorso, pensate solo al disagio della maceria, alla fatica della maceria e tutto quello che concerne sì che abbiamo bisogno di certe caratteristiche, purtroppo non possiamo con cani timorosi, cani che non stanno, non vogliono stare assieme agli esseri umani, che non riescono a stare con bambini, con anziani, però noi facciamo sempre un bel giro e abbiamo avuto cani splendidi, bravissimi, presi proprio ma dai canili. Cosa succede? Come parlavamo prima, ultimamente però nei canili purtroppo troviamo, e questa per me è una cosa che troviamo cani con grossi problemi psicologici, proprio perché noi umani stiamo rovinando questo nervoso animale. Non gli diamo il giusto rispetto che meriterebbe proprio come cane, perché per mia personale convinzione un cane deve lavorare, altrimenti un cane ma da salotto non riusciamo a stressarlo, è con tutti i problemi che poi comportano. Oltretutto, visto l'addestramento che è molto lungo, cosa abbiamo fatto? Abbiamo pensato di selezionare la razza del cane da soccorso, perché purtroppo tante delusioni ci hanno portato a una perdita di tempo e ricordo che questi sono tutti cani di proprietà, che non sono un pacco, non funziona, lo metto lì, sì che c'è anche un riscontro emotivo, c'è anche... Cioè diventano vostri praticamente? Sono nostri, sono proprio nostri. Abbiamo cominciato a selezionare la razza del cane da soccorso. Allora abbiamo individuato intanto la tipologia della razza più adatta, anche perché l'addestramento deve essere fatto senza violenza, non chiederei mai a un San Bernardo di salire sulle macerie. Ci sono razze particolari portate per certi lavori, abbiamo cominciato a selezionare la razza, sì che border collie, labbra, tutte quelle razze molto molto attive, molto propense e abbiamo cominciato anche a dialogare in maniera utile con gli allevatori, sia allevatori sia a livello amatoriale, chiedendo espressamente cani da lavoro. Non certo che abbiano titoloni, ma che abbiano una genetica dove ci sia dentro delle sezioni di lavoro, proprio per poter abituare sempre questi futuri cuccioli già a un'impronta, sia del padre o della madre o dei nonni, a un'impronta di lavoro. Cosa vuol dire un'impronta di lavoro? Vuol dire che sono già cuccioli molto curiosi, molto nevrilli, molto attenti, molto docili. La madre riesce a trasmettere già tutte queste caratteristiche. Poi con l'aiuto dell'allevatore importantissimi i primi due mesi, perché lì ci sono tante finestre che poi con il tempo vengono chiuse e questi primi due mesi sono i due mesi più importanti, hanno capito che i cani devono essere anche, il primo aiuto deve darlo l'allevatore o la persona che li gestisce. E effettivamente devo dire che ci sono delle buone linee, ci sono delle buone razze e stiamo ottenendo dei buonissimi risultati, a differenza appunto di anni fa. Ma ripeto, va benissimo qualsiasi cane. Utilizziamo dai cani da 5 kg ai cani da 30 kg, ripeto, però che abbiano queste particolari caratteristiche, questo sì è essenziale. Ecco voi siete, lo diciamo anche prima, volontari, volontari dello stato puro. Esclusivamente volontari. I cagnolini mangiano? Tanto. Anche perché essendo molto vivaci hanno bisogno di essere nutriti, avete delle spese di spostamento, avete degli oneri da sostenere, come fate? Tutto di tasca nostra. È proprio una vocazione, cioè è pazzesco, non dovrebbe essere così. Sì, è una vocazione, o meglio, entri in un ingranaggio dove è impossibile poi tirar fuori. Ecco perché intanto ci autofinanziamo, poi se c'è qualche sponsor, qualche evento, cerchiamo di approfittarne o di poter fare anche noi qualche dimostrazione, proprio perché dobbiamo riuscire, adesso io con otto cani, a breve ci sono otto vaccinazioni. E poi c'è il veterinario e poi si fanno male, Bughi qui ad esempio nei Rovi ha avuto questo piccolo incidente che va curato, che va... e c'è tutto il resto, gli spostamenti, l'addestramento non è fatto solo in campo. A livello di macerie dobbiamo continuare a spostarci, il carburante è nostro, i mezzi sono nostri, l'usura è nostra, è una passione. Purtroppo appoglienti non richiedono i volontari, ma danno poco a livello di contributi. Parlo semplicemente del DPI, noi siamo obbligati ad usare un certo tipo di calzature, siamo obbligati a usare... No, pensavo che ci fosse una professionalizzazione della vostra figura, vista tutta la competenza acquisita, la formazione, l'utilità sociale e pratica, invece ancora siamo... qui ci dovrebbe essere un passaggio, un passaggio ulteriore secondo me. Qui speriamo che qualcosina i nostri potenti vedano che, ripeto, una calzatura idonea può salvarci il piede, un casco idoneo può salvarci, perché anche nei terremoti, anche se noi non saliamo nelle macerie, oppure quella volta che siamo costretti a salire proprio per poter dare una mano a tutti, sia a livello di professionisti, a livello di volontari, a livello di sanitari, magari c'è la scossa lì, se non hai la tua protezione, è questo, però questo è solo nostro, è solo a livello comunale, i comuni stanziano qualcosa, però insomma è una cosa minima nel bilancio comunale, io ho sempre lanciato questi appelli perché i comuni vedano che questi volontari vanno soprattutto tutelati, speriamo che vengano colti, tutti i corsi, sicurezza, però dobbiamo avere anche il materiale. Siamo arrivati in chiusura, solo una cosa le chiedo al Presidente, solo nelle macerie, ritrovamenti oppure anche di altro genere? No, anche altro genere, devo fare una distinzione però, le macerie sono attività di protezione civile, mentre altre cose che ci vengono chieste, quindi superficie, consideriamo tutto superficie, ci prestiamo o veniamo prestati, nel senso che viene richiesto anche da autorità la nostra opera e quindi bisogna vedere a che fine potrebbe avere. Certo, no, no, ma possono comunque intervenire anche, hanno fatto un ritrovamento anche, non so se di un bambino a San Giorgio delle Persiche che si era perso, cioè dispersione di persone o anziani o bambini, quindi riescono a affittare anche… Certo, sì, è una nuova frontiera anche questa. È una nuova frontiera perché con l'allungamento della vita queste nuove malattie muove, che non conosciamo tanto, fanno sì che succedano episodi di persone che si perdono, sì, non volontariamente ma nel senso per malattia ed è aumentata questa richiesta anche tantissimo. Io vi ringrazio, ringrazio Presidente Simone Catellandi che state qui con noi e Daniela Romanato, responsabile tecnica, grazie anche a lei, grazie a Bughi che è stato di Esè, diciamo, eccola qua, che è Sousa Scodin, se l'ha sentito il suo nome. Di Esè stata qua di supporto e grazie naturalmente a tutto il lavoro che svolgete a nome di tutti quanti. Buon proseguimento, ci vediamo. Grazie.